Anche quest'anno a Chiusa Vecchia si svolge la fiera del 2 giugno, fiera centenaria legata al nostro territorio, in questo caso alla Valle Imperio. Nel contesto di questa fiera quest'anno si è voluto dare un'impronta praticamente legata al nostro territorio e ai sentieri, pertanto nella fiera abbiamo il CAI che già da 4 anni percorre questi sentieri e abbiamo praticamente quest'anno voluto introdurre la presentazione di un progetto, un progetto sempre legato al territorio e ai nostri prodotti, che è un progetto che viene presentato qui e che in futuro avrà una rilevanza internazionale. Questo progetto ringrazio intanto l'architetto Martuscello e tutta la compagine che ne ha curato gli aspetti del progetto, viene presentato, noi qui come territorio presentiamo l'oliva taggiasca, che è quella che ci contraddistingue, Chiusa Vecchia è in mezzo alle olive e il nostro territorio che non ha niente a invidiare con gli altri territori. Si sarà questo collegamento col Brasile dove potremo confrontarci con questi due territori, di là c'è un caffè e di qua c'è un'oliva. Io sono vicepresidente del Circolo Italo-Brasiliero di Poços de Caldas che è in Minas Gerais, noi ci occupiamo praticamente di scambi culturali con l'Italia, la situazione del Circolo è nuovo, ha due anni, quattro anni e cerchiamo di creare questo intercambio specialmente anche di studenti tra l'Italia e il Brasile, sia cultura e anche gastronomia, per cercare di riuscire a riportare la vera cultura italiana in Brasile che si sta un po' perdendo. Le generazioni successive agli immigrati hanno un po' perso l'italianità e quindi noi cerchiamo di ripristinare questo collegamento con l'Italia. Consideriamo che il Brasile ha 30 milioni di oriundi italiani, che sono un numero enorme, praticamente il Brasile ha 200 milioni di abitanti e 30 milioni hanno origini italiane, un patrimonio che non possiamo perdere noi italiani stessi e dobbiamo cercare di recuperare e continuare ad avere questi rapporti con i nostri immigrati. L'Introspectiva è un'associazione culturale che si occupa di territori dell'entroterra e della loro qualità di produzione, quindi di tutti i prodotti di altissimo livello, delle eccellenze alimentari ma anche di altro profilo. Il nostro obiettivo è quello di riqualificare e di valorizzare tutti questi aspetti e di creare delle interrelazioni fra paesi esteri e l'Italia. Siamo qui oggi come rappresentanza della Regione Liguria per promuovere tutte quelle che sono le attività che si occupano anche a livello culturale di portare all'estero quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio, prodotti che sono legati soprattutto all'enogastronomia e a tutto quello che ne consegue, turismo di conseguenza. Benvengano iniziative di questo tipo, noi appunto come Regione saremo molto recettivi verso tutte quelle che saranno le richieste che verranno in questo senso. Una bella iniziativa per valorizzare i prodotti e le qualità del nostro entroterra. Come Regione Liguria siamo qui presenti proprio per questo tipo di vicinanza che vogliamo avere con il Comune di Chiusavecchia ma con tutti i comuni della Valle Impero, Valla Roscia ma dell'intero entroterra. Con l'amministrazione Toti abbiamo negli ultimi settimane portato in giunta diverse delibere proprio finalizzate a valorizzare la vivicità dell'entroterra e la valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio. Il momento è anche difficile perché è un momento in cui molte multinazionali stanno facendo un po' il gioco forza sui nostri prodotti tipici ma con determinazioni dirigenziali apposta, con delibere di giunta apposta che stiamo preparando. Crediamo di poter da una parte tutelare il nostro prodotto, il nostro made in Liguria, le nostre qualità e dall'altra parte possiamo anche valorizzare da un punto di vista economico. La Liguria si caratterizza per prodotti di nicchia di qualsiasi genere, esso sia dall'olio al vino e da altri prodotti che sono di però altissima qualità rispetto a tante altre regioni d'Italia. Noi dobbiamo puntare su questo e queste iniziative sono fondamentali proprio per raggiungere questi obiettivi. Sì, sono a Chiusavecchia per questa bellissima manifestazione, questi scambi culturali oggi promossi dal sindaco di Chiusavecchia, Oreste Laiolo e questa associazione introspettiva che vedranno oggi uno scambio culturale e enogastronomico, così possiamo dire, tra Liguria e Brasile. Credo che si parlerà di oliva taggiasca, poi questo è il terreno, insomma, qui è il terreno fertile per l'oliva taggiasca, abbiamo un territorio spettacolare che sicuramente è sempre più da recuperare e da valorizzare. Questi scambi qua sicuramente ci danno l'opportunità di farci conoscere al mondo, di presentare il nostro prodotto ma presentare anche il nostro territorio. Questo può dar vita non solamente a scambi commerciali ma anche a scambi culturali, turistici e quant'altro. Quindi ottima iniziativa, applauso al sindaco che ha voluto ospitarla in questo bellissimo borgo e speriamo che sicuramente questa iniziativa ci porti i buoni frutti.